Tre punti che servivano per rialzare la testa dopo la sconfitta della settimana scorsa? Sì, sicuramente non siamo partiti bene in questi play-off, avevamo voglia di rifarci. Era particolarmente lungo questo periodo in cui non stavamo giocando molto bene, quindi era importante per noi una vittoria, anche il bel gioco. Direi che siamo sempre stati sopra, a secondo tempo ci siamo rilassati un po' troppo, ma è andata bene la partita. Settimana prossima c'è il big match contro il Bolzano, quest'anno una vittoria per parte, che partita sarà? Adesso abbiamo due partite di fila contro Bolzano, prima in casa poi a Bolzano, saranno due grandi partite perché ci giochiamo davvero, noi vogliamo cercare sicuramente di vincere almeno una delle due e proveremo a farlo perché abbiamo già dimostrato di poterli battere. Se giochiamo al nostro livello penso che ce la possiamo giocare con tutti, non siamo secondi a nessuno, vediamo, insomma dipende tutto da noi. Che cosa non ha funzionato in Trieste rispetto alla squadra che ha vinto la settimana scorsa contro Bolzano? Principalmente la difesa, in difesa soprattutto a primo tempo non siamo riusciti ad esprimere un buon gioco, di conseguenza non siamo riusciti a spingere in contropiede giocando in velocità. D'altra parte in attacco, come capita spesso, abbiamo sbagliato tantissimi tiri e alla lunga distanza si sente la differenza. Ecco, il secondo posto adesso si allontana un pochettino, a distante sette punti in virtù dei risultati di oggi, quanto pesa quell'ultima giornata di regular season in cui va sfuggito il terzo posto nella fase regolare? Sì, pesa molto, tre punti in più sarebbero stati molto utili. Diciamo che vincere oggi ci dava la possibilità di puntare tutto su noi stessi, adesso invece per arrivare secondi dobbiamo anche puntare sugli altri, sperare qualche risultato positivo per noi e soprattutto vincerle tutte. Sappiamo che sarà difficile già dalla prossima in casa con il Marano, ci proviamo, tanto ormai non abbiamo niente da perdere.